Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima serie qua sul mio canale, come vedete in questa serie sono da solo e invece no ragazzi Mau, che stati? Che da solo non batti nessuno Come al solito c'è Yaku Enova al mio fianco Ciao ragazzi Questa nuovissima mappa, come vedete siamo dentro a un dungeon gigantesco, sempre custom map Ha un nome inglese che non mi ricordo ma in pratica in italiano è il re delle zucche E' una mappa fantastica ragazzi, spero che non l'abbiate vista ancora da nessuno Essi in caso la guardate da me che sarà 100 volte meglio, ecco fatto Lasciate subito un bel pollicione in su e noi ragazzi startiamo il gioco, dov'è il pulsantone? Le note, credit, no i credit non voglio leggerli Le note, andiamo su start game, vai, siamo pronti Start game, addirittura una scritta verde Wow, dove cavolo siamo? Ma guarda qui c'è dietro la tenda Che figo, non è verne nella sfardiglio Il sole è finalmente sorto Ci sono dei conigli che dovresti, sono dei conigli laggiù Allora io prendo le patate cotte, prenditi le carote e con l'altro te, dividiamoci un po' le cose Io mi sono preso una carota, un pollo e la spada Il letto possiamo romperlo Allora, no perché lo devi rompere? Questo qui è il nostro accampamento ragazzi L'accampamento Comunque Oh fermi ci sono torce di pietra rossa qua No no, torno indietro Torno indietro Aspetta fammi vedere qua dove si va Oh qui c'è una cosa Live Ah qua si va via No no no, non cliccare, non cliccarlo Ah più di qua non posso andare Eh no, c'è scritto che bisogna uccidere tre conigli che sono qui sotto Ah uno l'ho già ucciso Vai vai, massacra lì Eh perché sono un bandalo Massacra lì che stasera ci facciamo Cosa si mangia? Ma guarda che te ne devi Eh non sto fatto di conigli Che ci dà anche la pelle Ammazzalo questo, ammazzalo, ammazzalo Ma senti il rumore che fanno poi quando muoiono Pip, non la so accoltare Chiuditi le orecchie Ma saltano troppo Ok, allora Che cavolo va Sono i zombie Che cavolo ragazzi Zombie 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 Fermi tutti i zombie di zucca Di zombie zucca Arrivo Ma che cavolo Arrivo Via via va Vai 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 Io non c'è la spada Ti proteggo io dal piano sinistro A te stugine Oh perfetti Sto facendo tutto Sto facendo tutto Oh grazie Hai occupato Il fungo lì Il coniglio Il coniglio Sì 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 Ho presi due Io Comunque ha scritto che In presa computa Abbiamo abbastanza cibo E dobbiamo andare via Ah basta è finito così il primo pezzettino Solamente da resistere Sì è finita la mappa Bene Perfetto Bella Andiamo su live Andiamo Andiamo Oddio Che cavolo siamo No esci dal mio corpo Cos'è? Deathwind 31 Present Ah inizia qua adesso Bone of the pumpkin long Oh madonna Quello lì è stato il nome della mappa Pumpkin town Rabbit plane Allora io direi di andare da pumpkin town Eh sì Nella città delle zucche Sì di qua è bloccato intanto Non si può passare Vai tutti nella città delle zucche Ci siete mai stati voi ragazzi Nella città delle zucche Subito sotto nei commenti Guardate che figo fare Una stradina sotto gli alberi così Eh è molto carino Perché te picchio la testa ogni due secondi Sì Vai Perfetto No Sto morendo Una patata Io però C'ho tutto C'ho tutto Cibo crudo Non vorrei Io ho solamente la carne lì in marcia Ma troveremo qualcosa La carne mancia Ma mancia la carne marcia Ma che figata Il pesaggio Fa vedere Andiamo più in cima Possibile No non posso salire Maledetti Non si può C'è una barriera invisibile Eh sì Che figata È un mega castello Guardala la torre No Guarda La montagna lassù Guarda impara Vistar che nel prossimo mondo Infatti Nel mondo di Vistar ragazzi Andremo a costruire una roba del genere Nel 2030 forse ci riesco Sì Cioè è fighissimo Dopo anni Anni di lavoro Qua c'è una ragna tela Se ci sono ragni No Io c'ho l'arco Con 19 frecce Vabbè esploriamo Un villaggio Entriamo dentro Ma tu che dobbiamo prenderla Smeraldo Smeraldi sono i punti Comunque mi sa List e note Allora Leggiamo qui Fire Resident Volsion Holy water Tieni Fatto Tieni Ah c'è cibo Cibo volontario L'ho messo dentro io Quella di coniglio Ah c'è cibo qua venite Ciao cibo Ho la tua lista di item Che ci siamo necessari Per la prossima Smeraldi sono i punti Ah dobbiamo trovare quelle cose lì Se hai bisogno di qualcosa che si è realizzato alla città As usual Tieni Tieni qua Prendi qua L'armacura Tieni E tieni anche la spada E un po' di cibo Fantastico Grande nuova Allora Allora No no Spara la cesta Vai vai con la spada Nel cavolo sono Fatemi uscire Sono intrappolato Hola Vuoi andare la chiesa o andare di qua? Eh la chiesa ce l'hanno detto Beh andiamo a esplorare un po' tutte le cose qua Oh i villagers Questo cosa dà? Roccia di fondo Cosa ce ne facciamo? Di nulla Niente Oh al piano di sopra Cesta vuota con il letto Ah c'è la fornace C'è la fornace Accesa? No Però avete del Qualcosa per pulsare Eh no Trovato Uno smeraldo Vabbè esploriamo un po' Tutte quante qui Questo è Zyperlot the hunter Qui ci sarà Il cacciatore Eh non c'ha solamente Carne e niente Solamente smeraldi Eh ma qui c'è la zona delle impicagioni Mi fa paura È pieno di teste questo Figo Lo voglio io Come faccio a prendere l'armatura Dove? Ma ma come cavolo è Ma hai visto entro qua? Hai visto entro qua? Dove? Ma questa non l'ho vista L'arco Bono 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 Io sono l'arcere Ma guarda qua per terra Hai visto per tar l'arco? Sì Ti do questi Questi di pelle Eh vai passa Così non so qualcosa Fammi vedere come sono figo Allora io c'ho dei pantaloni di pelle Ah ce li già Allora ho la spada E qua dentro E l'arco con potenza E l'altro arco Cos'è sta a posto? Posso mettere qua? Dove? Oh smeraldo Avete già esplorato qua? Oh qui c'è qualcosa Guarda qua Fa vedere dove sei Guarda qua In questa porta qua Però ci conviene più Veramente andare in chiesa Le pozioni Le ampolle Cioè Il libro c'è Prendo il libro Vieni un po' Io vado al canale Eh Wism2 Lo mi sono interessante Alperazione Per fare la chiesa Pozione di guarigione Visione notturna E una verga E lo smeraldo E una verga Trovate altre due Così ne abbiamo una Ciascuno Oh Possiamo di rigenerazione Wow Grazie Zanno E lentezza Cioè Ho trovato di tutti di più Raga qua Dai andiamo alla chiesa Raga Dobbiamo prendere tutto Che poi non dobbiamo Ritornare indietro Hai preso tutto Tutto C'è una porta Con Uuuuh Ragazzi Fantastico Pieno zeppo di cibo qua Patate Carote Prendete tutto Vabbè poi ve lo divido io E questo però Non si riesce ad aprire Perché è troppo bassa Oh Patate Viene a vedere Pista Dove sei Dove siete voi Dove sei Viene a vedere Viene a vedere Dove sei Questa Questa cosa qui La devi fare Qua Eccoti Questa quella devi fare Nel tuo mondo Guarda Fammi vedere Uuuuh La ghigliottina E guarda dietro di te Ci sono Zona piccacione Le teste No Guardi tu di te Ma che figo Fantastico Quelle botole che cadono di sotto Dai andiamo in chiesa va Conviene Fighissimo Come cavolo ha fatto a mettere Questa cosa qui con la pietra Come fa No ci devo provare Vai andiamo in chiesa Da che parte Andiamo tutti Di qua No no di qua Eccoci Eccoci E andiamo Non sentiamo tanto Eccoci Fighissima anche questa qui I teams Ah qua ci dice Dove sono Dove ho preso Gli oggetti Che abbiamo già preso Perfetto Se andiamo sopra Dove sta roba Guarda c'è C'è pane Qua ci sono Della lastra di Quercia Che non so che serve Eh qui ci sono Delle informazioni Ah la fornace Vuota Sì peccato Ecco Possiamo incuocere Ho le Lastra di quercia Che funziona come carburante Buono Allora io ti metto Queste cose qui Mette tutto dentro Io metto Io salgo Oh cavolo Guardate libri E una key Mieno zeppo di libri qua Mieno zeppo di libri Che cavolo ce ne facciamo No qui invece guarda quante roba c'è Holy water Vabbè prendi tutto Oddio che spavento Item acquired Cos'è sta roba Io prendo tutto Prendi tutti i libri Eh sto prendendo Piglio 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 Ti ruba tutto Ma c'era anche un Un Qua c'è qualcosa Sì Non si possono aprire Con le case No maledetti Voi avevate Eccoci qua Ma voi avevate una leva Sì io ho preso la leva Qua c'è scritto Metticeli mouse sopra Oh eccomi qua Di qua Vorrei metterla qua la leva Saltala sopra e salti qua Mettila tipo sopra qua Qui la leva Saltala blocco No No Da nessuna parte No Non va da nessuna parte Qua la leva Ah forse Era dove c'era Ti ricordi Dove c'era il blocco d'oro Sì 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 Prendi allora Ed eccoci qui al cimitero E prova a mettere la leva Magari qua dove c'è il blocco d'oro Eh prova Io ragazzi Finisco qua Questo primo episodio Come avete visto Siamo arrivati Nella città delle zucche Abbiamo esplorato Tutte le case Abbiamo preso un po' Tutti gli oggetti Che ci potevano servire Per questa caccia Come dei sciacalli Esatto Abbiamo saccheggiato Più che altro Tutto quanto Scrivetemi nei commenti Se vi piace questa serie O meno Chiaramente dobbiamo ancora Entrare nel vivo Dell'azione di questa custom map Abbiamo veramente visto Poco Però quel poco Secondo me Ragazzi è stato Veramente molto molto interessante Già per come è fatta la mappa Per la ghigliottina enorme Inoltre vi invito A scrivere Nei commenti ragazzi Se avete già fatto Questa mappa O no Chi l'ha già fatta Mi può scrivere tranquillamente Sotto nei commenti Come andare avanti Consigli Consigli Soluzioni Ragazzi siete liberissimi Di farlo Così magari Interagiamo veramente In una maniera Spettacolare Siete anche voi Partecipi Di queste avventure Magari vi posso anche Ringraziare Se le dritte Che mi date Sono giuste O meno Quindi niente Io ringrazio nuovamente Iaco Enova Per essere Di nuovo Qua con me In questa nuova avventura Guarda Per adesso Mi sono divertito A saccheggiare Tranquillo Esatto Quindi è stato Uno spazio Stiamo saccheggiando Peggio degli Sbabbari ragazzi Con i purcelli Sbabbari Quindi ragazzi Io vi ricordo Di lasciare veramente Tantissimi pollicioni Su commentate Passate nella pagina Facebook Trovate chiaramente Il link di Iaco Enova Sotto in descrizione Qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video